Beh, allora DR è italiana. Beh, ragazzi, dipende. Questo perché gli ultimi veicoli rilasciati, ad esempio la DR 5.0, la 6.0, la 7, la 4.0, la 3.0 e così via, insomma, vi ho praticamente detto quelli che sono gli ultimi modelli, sono stati prodotti in collaborazione con Sherry, ovvero gruppo automobilistico cinese.